21esimo premio Loris Oliver Vivian Legg, mercoledì 14 ottobre 2020. La manifestazione si svolgerà presso la Sala Conferenze del Palazzo della Loggia Rambagli di Bardolino, dove verso le ore 20.45 del 14 ottobre arriverà la vettura con i premi massimi. Dopo i brindisi di benvenuto vi sarà l'occasione di incontrare i personaggi premiati. Gianni Togni, autore di successo è una delle figure cardine di questa ventunesima edizione ed era spettacolo nel corso della serata. Sabrina Simoni farà la sua parte di regina raccontando il suo inizio all'Antoniano come coaudiotrice di Marielle Ventre per arrivare ai giorni nostri con la direzione del piccolo coro in diretta Rai. Oliver Legg 2020, il ventunesimo premio Loris Oliver per la musica, verrà appunto assegnato a Gianni Toni, cantatore romano noto con le hit come Luna, Giulia, Vivi e tante altre. Il premio Vivian Legg verrà assegnato a Sabrina Simoni, direttrice del piccolo coro dell'Antoniano. Saliranno poi anche sul palco i finalisti del ventunesimo concorso nazionale letterario, i cui nomi verranno comunicati nel corso della serata. E sempre nella corso della serata verrà anche consegnato l'oro della riviera ad un personaggio di Valenza interregionale. Spazio poi alle arti visive e con il premio speciale del concorso nazionale video. Le arti figurative verranno rappresentate dai quadri di Giovanna De Boni, Fabio Zanetti, Franco Gioe Loro, Cirano Maffezoli, Oliva Rossi e Ferdinando Pietropoli e Margherita Vellini, Santina Pelizzari e Giovanni Finardi. Esposte in sale e alcune anche consegnate come premi. Un'esposizione che raccoglie anche i manifesti realizzati dallo stesso Toresani, direttore artistico, che ripercorre il tragitto di questo spettacolo iniziato ben 21 anni or sono. Quindi vi aspettiamo, mercoledì 14 ottobre 2020 a partire dalle 20.45 presso la loggia Rambaldi a Bardolino, Verona. La serata sarà presentata dalla brava Susanna Geckele, media partner di questa manifestazione Radio Studio Verona.